Amiche, amici, c'è un appuntamento imperdibile. Sabato 18 giugno c'è il Liguria Pride, il cui slogan è All Families Pride. Vi ricordo che bisogna assembrarsi alle ore 15 in via San Benedetto a Diacenze, Palazzo del Principe. Voglio ricordare che partecipare al Pride significa incoraggiare una società dell'inclusione, dove tutti dobbiamo stare insieme non nonostante le differenze, ma anche grazie alle differenze. E voglio anche ricordare che è scientificamente provato che partecipare al Pride fa diventare una pelle pazzesca, combatte le doppie punte e anche la cellulite, tre motivi in più per partecipare al Liguria Pride.